4 muro adesso facciamo modalità coppie dopo facciamo creativa ciao ma non so se ti sentono comunque noi siamo sul party no ah si forse sul party ti sento penso di si no non penso che c'è scritto cioè non penso che ti arriva la notifica quando avvio la live ah tu dici sul tel vabbè io l'ho avviata forse arriva un po' in ritardo la notifica però togli l'audio che se no si sente l'eco cioè se tu se lo metti sul telefono poi devi togliere l'audio no ok vabbè ok ah qua zero spettatori ah ok e adesso facciamo partita in coppie allora tu dove sei? sper ah cerchiamo di fare vittoria dai io no cioè c'ho giocato proprio cioè non ho quasi mai giocato quindi cioè ieri poi qualche giorno ma non ho giocato seriamente cioè morivo subito in pratica non mi alleno mai ho sbagliato dov'è? andiamo qua andiamo qua ah ok ok va bene va bene allora andiamo là qua davanti si si come mille d'oro io c'ho 210 che schifo si vabbè vabbè non devi avere per forza il pass no? ah ok bene bene siamo ancora sto qua su non scendo oh vediamo apri 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 che ho trovato? buono buono si si dai si 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 mai però forse era meglio se lo facciamo dopo ma sta laggando 100 di pingo c'ho ok sto te mi sta laggando un vuoto cioè non so perché no vuoi il barret? però è è raro è raro cioè adesso hanno abbassato il danno hanno abbassato il danno che schifo quale? quello che c'ho io si si ah ok ah ok va bene però è buono allora ma cavolo cioè a me sta laggando cioè le armi vanno in ritardo cioè per esempio io prendo la k va in ritardo non so perché no cioè non so se poi riesco a killare qualcuno il senso non lo so cioè ti congelano i piedi ah ok va bene si è buono allora e pensavo che ti congelavano e basta eh infatti però si dai aia no cavolo sta laggando un botto 100 di ping ma che cioè in realtà prima laggava di più faceva 1000 di ping prima sta pazzi 1000 di ping adesso 40 non so aumenta e diminuisce dove andiamo si si lo so ieri l'ho usata in live aspetta aspetta io sto dietro il mio personaggio va avanti dietro va avanti dietro da solo l'autorità spawner è un cuore dov'è ah no quella è ok ho sbagliato inizia aspetta aspetta mi vengo eccolo l'ho visto attento l'ho visto sta qua aspetta lancio le granate ok hittato hittato one shot in pratica ok no dov'è ah l'ho visto no sbagliato mi zaga faccio proprio schifo da brava faccio schifo faccio schifo faccio schifo faccio schifo proprio la pratica pensavo che il caccia fosse la k sono andato in panico sono andato in panico ho detto perché spara solo un colpo poi ho cambiato l'arma cavolo io ho fatto tre volte r1 eh eh anche a me fa adesso fa adesso fa così a me poi boh dopo facciamo uno v1 creativo no ci allineiamo forse è meglio farlo adesso perché così ci allineiamo un po' poi facciamo coppie o no va bene allora adesso quittiamo 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 però a me sta caricando ok vabbè dopo questa partita poi facciamo un creative ah leggendaria penso si no i soldi ah ah ok però moli molesti moni molesti ma a minza quanto è lontano si io ragazzi sono 8 ero fortissima con la doppietta cioè prendiamo tutti in testa che vuol dire ah vuoi volare eh si tipo punti verso il basso poi voli no ah però scusa la doppietta non c'è due colpi allora che serve cioè secondo me però fa schifo sta cosa direttavo ok vabbè però sta cosa che ha aggiunto fa schifo per la doppietta perché prima era già forte però adesso hanno fatto sta cosa non so perché ok ok tattico mi taglietta se vuoi ti do il tattico oh no mi taglietta ah ok va bene no c'è quanto lagga va dietro avanti va dietro avanti da solo c'è qualcuno da te allora sta bene vengo 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 subito c'è uno scilino per te c'è uno scilino per te stanno fai tanto no te lo do te lo do no giolaga salta da solo poi cioè non so perché o vai in ritardo ok sta qua eccovi no non c'ho mazzo non c'ho mazzo ok vai vai oh no non c'ho mi zica mi zica mi zica mi zica mi zica aspetta l'ho visto l'ho visto aspetta si dopo prendo la carta se lo kill no c'è un altro forse non lo so no uno uno l'ho messo a terra dov'è eccolo oh mi zica oh si ma c'è un altro c'è un altro ok ma no vai in ritardo dove sei dove sei sopra si ok aspetta da vede c'è tempo ok 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 tanto sta qua no aspetta la safe no non è lontana no sono diventato scarso proprio vabbè sono diventato proprio scarso c'è c'è meno male che c'è l'automira perché comunque mi aiuta un botto c'è la sensibilità proprio si è andata via sono adesso mi sono smirciato no c'è a volte ci gioco però sempre smircio prima giocavo tipo sei ore cioè la mira era perfetta mamma mia aspetta no giovanto l'agra va tutto in ritardo oro oro dove dove aprilo aprilo ah ok io c'ho il verde io c'ho il verde no aspetta mi faccio prima il medikit ma no non l'ha preso perché l'agra sotto gioco c'ho medikit sopra non lo esprichiamo ma me lo faccio ok ok vabbè ok oh cilini cilini ah ok aspetta mi sprechiamo tieni te ne do tutti ok vabbè strano se no provare via ah cavolo vai ok ah ma te ce n'hai ce n'è un botto no no ne sprechiamo non lo sprechiamo però ce n'è un botto c'è un botto ma è OP allora sta arma è OP quanto toglie ah vabbè beh dai ci sta un po' come l'air cioè no l'air quanto toglie quella verde 31 vabbè dai per essere una pistola è forte però per essere una pistola è forte ah aspetta aspetta ok come si no già va tutto in ritardo io l'ho tirato che succede si cioè io l'ho tirato poi non so che è successo che dovevo fare la safe la tempesta la tempesta ok andiamo 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 io c'ho delle bende poi te le do cioè quante ce n'hai eh ci arriviamo o no io c'ho 125 di legna 0 di mattone e 15 di metallo che schifo vai 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 oh ca- no no aspetta no 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 ah ok io sto andando dietro anziché vabbè dai ti divido le bende ce l'ho 10 ce l'ho 10 ma te ne do 5 vabbè dico se dico se non ce la facciamo cioè penso che ce la facciamo però poi te ne do 5 oh un camion no eh si mi hai curato cavolo siamo messi cioè non lo so un po' male cioè io di mazzo sto malissimo cioè posso fare minimo vabbè ma 300 è anche poco per buildare tenere bene tenere i 5 bene tenere i 5 bene cavolo va tutto in ritardo sto dietro al camion 52 di vita inizio 67 eh ma infatti oh ok ok sono entrato sono entrato sono entrato tattico ok va bene oh non sa ma non ce l'ho già ok vai sì è vero ma che non lo vedo vabbè prima si vedeva anche se anche se no prima si vedeva anche se non eri al posto di guida e mi inizia no sono tutti esauriti secondo me sì ma duravo oh sai 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 sta laggando un botto comunque rispetto a ieri non so perché lagga no no però dico non so se è un problema proprio o di fortuna no non penso che è un problema di fortuna perché a te sta andando bene a me sta laggando a me sta laggando dobbiamo scendere dov'è non le vedo io sto qua l'ho visto l'ho visto l'ho visto uno sta là uno sta là davanti a me come si indica ecco l'ho indicato l'ho indicato l'ho visto qua poi non so dove andano eccolo eccolo forse lo ah un pesce era cavolo è andato via l'ho visto l'ho visto una cosa che saltava poi non so poi boh strano vabbè ho scappato come non so cosa vediamo allora ma secondo me c'è un botto di gente qui dentro c'è i davanti come si chiama Colosseo Colosseo Colossale Colosseo eh vabbè tutti i nomi voi Colosseo Colossale ma si eccomi eccomi si si non so come funziona si no sta qua sta qua no costruisce ritardo no atterra ma dai vai ritardo si vai ritardo però mannaccio sta qua su sta qua su l'ho visto ecco sta qua uh grande ti voleva picconare hai visto che ti voleva picconare sto qua no no siamo morti siamo morti curati curati c'è c'è ok ecco ecco tieni tieni no no usalo te che va a me sta laggando è sprecato ok ok aspetta vi faccio ah c'hai tre medici diciamo questo aspetta aspetta che muoio aspetta faccio tre secondi due uno ma l'aereo sta qua l'aereo sta qua ma tu c'hai ancora anche altri medikit perché io ce n'ho ce n'ho due ce n'ho due io ce n'ho due medikit ci mette di più andiamo in safe andiamo in safe poi ti do un medikit ce n'ho due tanto ah ecco dove è andato no aspetta no tranquillo sono già sono già entrato in zona safe ok tieni tieni lascio uno si qua sta ok oh no le bed mannaggia io ce n'ho tutti mi piaccio questo no questo non lo so non penso ma com'è mitico si chiama di radita buono è buono eh cioè non è buono quanto toglie quanto toglie quanto toglie 110 mitico cioè in testa in testa 220 in testa 220 io non l'ho sentito un cavolo manco io eccolo eccolo davanti a me l'hai visti qua l'hai visti no non l'ho preso manco anch'io sto qua ah io no non finisco i materiali dove sono dove sono non li vedo ecco uno qua l'ho visto uno mi sta laggando ok tolto il shield tolto il shield ok tolto il shield qua sta è salito sopra grande si mamma mia bravo ma no a me la gam mizzerà a me la gam botto eeeh hai un po' di mazzo che cos'ha ah buono buono aspetta aspetta eeeh hai hai un po' di mazzo vedo finiti ok eccomi grazie 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 mannaggia la gam botto cioè vado indietro vado avanti vado indietro avanti mannaggia cioè ho tolto l'uscita a quello poi 10 persone mannaggia giocare così attenta attenta che ti può cerchinare questo hai eeeh hai cure band ma aspetta aspetta forse ho trovato ah ho trovato delle mele 2 le faccio subito c ah da 10 dove dove ok spero che non ci vedano no la gam bot dove oh ora ci prendo ok si infatti allora ecco uno sta per scendere uno sta per scendere si non so se ah ok sta andando a destra sta andando a destra sta andando a destra sta andando verso di qua vuole andare verso la prossima safe che sarà qua penso conoscono bene come si conoscono bene questo gioco lì rpg no non ce li ho adesso sono quasi introvabili non lo so forse boh manco io aspetta forse l'onda di ecco lì ecco lì l'ho visti l'ho visti qua c'è l'ho visto l'ho visto l'ho visto un altro fuori safe fuori safe sta fuori safe fuori safe sta uno io l'ho smirato l'ho smirato oh sta qua no eh si anche qua davanti ah no mi sta per uccidere mi stanno per uccidere cioè mi sta per uccidere no va tutto in ritardo mi sto facendo con un altro sto facendo con un altro no vai in ritardo no no sta qua sotto no sta qua no no ce ne sono tre ce ne sono due da me ce ne sono due da me no lagga lagga aiuto boom uno da me ok a terra a terra a terra victory da me sta a terra questo yeah io sto buildando abbiamo vinto laggando andiamo in lobby si si no però spero che non laggi in creativa penso di meno perché non c'è tanta gente ma tu hai il rainbow c'è dove giochi sulla play o sul pc c'è ah ok io ce l'ho sia sul pc che sul pc l'hanno fatto benissimo cioè puoi anche girarti puoi anche girarti aspetta che metto creativa metti pronto no io uso adesso metto o ragnano o carburo però carburo c'ho solo tre stili tipo due non mi ricordo ah no quasi tutti jugger non lo conosco i romi che cos'è che season io ho tutte le schede della season 5 però cioè tutto grigio vabbè io non penso di avercelo comunque io ho ragnarok che è l'ultima skin del pass della season 5 sono tutti stili aspetta quale metto l'ultima però non vedrò un cavolo con il mantello ok ho messo mamma mia è bellissimo sto skin anche il piccone però vabbè allora metto ok allora perché ho messo sto stile io l'ho cambiato vabbè la sciopata questa skin quale si sono questa ah io ho sciopato il pass io l'ho ma è strano entra nel più mondo che c'è tipo ok a me la gank anche in creativa all'accia si ma dov'è qua su si questo è il tuo ah eccolo l'ho trovato l'ho trovato ma nascosto vuoi beh cioè ho fatto un po' di ho messo queste cose qua così no sai che queste armi sono tutte della season season 9 facciamo fight libero o 1v1 c'è tipo in quelle cose grigi quelle specie di scale fight libero ok vabbè aspetta che trovo che c'è devo prendere il caccia caccia e poi ah no la gambotto si può giocare così io ho preso ah beh pompa del nonno blu mitraglietta blu e non lo so io ho aperto la cesta chi si ricorda più ok e vabbè il fallone lo usiamo usiamo le trappole e basta allora io no io ho preso questa mitraglietta non la silenziata questa qua poi si trova qua aspetta penso che sta qua eeeh dov'è ho perso eccola eccola ok poi lo scar leggendario il barrett e il caccia questo ok 3 2 1 via no lagga no raga aspetta no lagga no cioè tipo costruisce poi si toglie io vedo così poi no 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 tolta ok adesso lo sta laggando no lo sta laggando mannaggia no lagga 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 cioè io tipo metto il pavimento dopo tipo 3 secondi si dopo 3 secondi eh si sta qua no no non costruisce il pavimento dopo 10 anni così può darsi no no non ti vedo no va tutto in ritardo no aspetta sei qua aspetta aspetta no ok adesso adesso sto andando bene no sto andando male perché dico che sto andando bene quando va male aspetta sei qua no ma tutto in ritardo caccia subito facciamo un oscop oh no scendo aspetta no ah l'hai fatto io non riconosco più i rumori cioè tipo i suoni del proiettile prima erano diversi hai warzone è bello eh fidati io ho l'M4 al completo cioè ho tutti i mirini bellissimo sai che c'è anche tipo quello che no no non l'ho comprato cioè non so manco come funziona sinceramente sì una volta ho giocato il salve mondo di il mio cugino no non a casa mia non a mia play sì poi 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 non mi ricordo più come si gioca eh speri carico il calcio io ho 57 di vita mi inizia la uh lagga a botte cioè adesso aspetta no 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 gg's trappola grande trappola sì qualsiasi io dico cioè puoi prendere qualsiasi arma tranquillo però il fallone non lo prendiamo cioè non lo usiamo perché secondo me non vale a me piace cioè secondo me è utile però da lontano il caccia invece lo uso da vicino invece è un botto no 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 spera no cavolo cavolo spera no no mi sono chiuso spera ah no spera scenda no lagga 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 prima andava bene ok stai sotto no ho lasciato il pompa ok preso preso boh anche cioè a volte prima quando ero un pochino più forte cioè a volte giocavo bene a volte male non so perché dipende dalla giornata penso uno di vita what aspetta aspetta ma vado no facendo offscope dai si ok si no lagga 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 ok no 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 lagga 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 aspetta mi carico il caccia no no cavolo 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 st'anello st'anello ti sento ti sento ma non so dove sei non ti posso salire ok ti ho visto no no ma che smircio che sono infatti aspetta aspetta allora voglio prenderti col piccone gg per il pompa grande pompa grande lia grande pompa boh cioè a me prima piaceva cioè mi piazzavano le trappe alla random poi non lo so che hai messo modifica quadrato ah c'è anche io c'ho quadrato trappola però per esempio a me cerchio se tengo premuto cerchio modifica anche se ho cambiato tasto a gambotto ok da qua no 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 lagga 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 non costruisce Ma 48 di vita Sì Mi inizia 46 ancora No 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 Raga 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 Sì sì Però sono concentrato A volte mi dimentico Di parlare Cioè ma Strano A volte anche Cioè no a volte a me non arrivano La gambotto Sì Non so perché però C'è solo oggi Laga Strano Adesso 31 Adesso va bene Sì ieri non laggava Se rivedi la live Poi vedi In certe parti Lagga un botto No 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 Non costruisce Cioè non puoi vedere Il mio controller Quando costruisco Allo stesso momento Però se vedi Cioè se vedi anche Per esempio quando piazza la scala Con R1 Se vedi il mio controller Vedi che vai in ritardo Dove sei Ok stai salendo Stai salendo Ok adesso lo sta laggando No stai laggando No stai laggando La giocento Di ping Aspè E' buono 60 A volte è buono Meglio di 120 A me va A me va Allora normalmente va 20 23 30 Adesso sta andando male Non capisco A volte va male A volte va bene No Oh Spè Ah non stai qua Stai qua Ah no Ah vai in ritardo Ah stai sopra Non ti vedo Eccoti Io ti ho visto Ti ho visto No 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 Aspè Uh Cioè vabbè Non avevi shield Come te l'ho tolto Ah non mi ricordo Vabbè Vuoi cambiare l'arma Cioè ma questa Questa arma Prima era troppo Cioè Da spammer Quest'arma Questo fucile A pompa Questo fucile a pompa Con 12 colpi Non mi ricordo quanti ce n'ha Questo da spammer Proprio Pazzesco 3 2 1 Ok vai Ah io l'avevo Io l'avevo messa La doppietta Ma quale C'è Era la mia Ambra preferita Quindi L'avevo messa All'inizio Secondo me hanno diminuito il danno Prima toglieva un botto Fidemi No No dico Non so se l'hanno tolta Boh Ma poi Cioè Cioè sì Questo lo so Però Dico No Dico il danno Non so se hanno diminuito il danno In generale Perché il barret Ah Cioè Eh il barret Per esempio L'hanno abbassato 132 No 32 Quello D'oro No Sono caduto La gambotto No Va tutto in ritardo Anche se ho 20 di ping Va in ritardo Poi va a 121 Dopo un po' Eh No no Un po' di prima Di solito sto andando un po' male Sennò anche ieri Sì c'erano a 63 I shield Mi manca Mi manca un botto parco giochi Quello vecchio Quello vecchio Come quello vecchio Quante ore ti danno Quante ore ti danno Prima ti davano 3 ore Tipo Buono Però Mi manca Mi manca la vecchia mappa No No La doppietta Non devi usarla come pompa Cioè Devi usarla tipo come mitagliette Cioè Prima colpisce un po' Col pompa Quando hai il colpo decisivo Quando C'è l'intesta Davvero Si può fare Cioè No allora Cioè È un pista Mentre Sta doppietta Si Cacchio 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 Allora Già Boh Vabbè A volte Aspetta No No vai in ritardo Fra 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 Vai in ritardo Ieri andava bene Adesso va in ritardo No Mannaggia Prima Verso la season 7 Andava sempre a Andava sempre a mille di ping Non so perché C'è Sì Dopo sto fight Dopo sto fight Poi No C'è tipo una mappa Find the button Sta cosa così Hide and seek No Dico poi Facciamo tipo un minigame Cioè tipo Non per fightare Tipo hide and seek Prima ci giocavo E facciamo quelle là Erano belle prima Poi non so come sono diventate Sper Cos'è No lagga lagga Vai Tipo Ah sì Quella è Ah sì sì Anche prima C'è C'è Già nella season 10 C'è La season 9 Non mi ricordo Fra la cabotto Non ci riesco a giocare C'è Mi si blocca sulla scala Vabbè dai Facciamo quella mappa Sì Aspetta forse Non lo so Ah quella gigante Proprio Quella araba Quella mappa Aspetta Sì sì sto salendo Sto salendo Sto salendo Me la lagga un botto Vai dietro Vai dietro Vai dietro Ah Una box fight Questa Ah No la mia Vitradietta preferita C'è Leggendaria Poi che c'è Il pompa No Questa pompa Era troppo bella Prima Poi non so come Com'è Ah questa Fucile pesante Soffre Però non so quanto è forte Eh Uno spara Ah devo entrare qui Per sparare Oh no Vabbè allora Non mi serve adesso Perché Vedo da te poi Sì Allora Ma qua c'è lo scar Eccolo Eccolo Scar Ok Barretta anche Allora Prendo splash Sono utilissimi E Ah no Io aspetta Gli pesci Io prendo i pesci Sono meglio Meglio questi E infatti Sono meglio Ha più senso Prendere questi qua E c'è Chino Devo prendere E basta Ah no Prendo Solo e caccia Io Io anche Quattro armi B What Come fa Cioè No vabbè Spero che non lagga No lagga 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 Fra fra Ok Lagga un botto Cioè adesso no Adesso no Ah adesso sì Io Ok Allora è vero Il rampino C'è No Inizia Cioè ti avevo In testa Ti avevo No la Ok vediamo Ah ma sembra Ma sembra 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 La doppietta Sembra Eh Buono Quanto toglie Penso Quattro colpi Di pompa No Un po' di meno E quanto toglie Cioè un pompa normale Toglie 80 Più o meno Ah vabbè ma che pompa è Cioè pompa bianco Quattro pompe bianco Penso Quesso Certo Ah vabbè buono 160 In testa Doi di 320 Lagga un botto Fra Non capisco Ma che fa così male No Ah è vero Ciao I pesci Oh cacchio No 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 ti avevo Avevo il mirino Avevo il mirino In testa Fra Il mirino in testa Io avevo Eh Cioè Sì però Io avevo Cioè se mancava tipo 3 millisecondi Per finire la ricarica Del pompa Ti avrei Shottato in testa No L'atomica Subito No 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 Io mi Mi porto Cioè io prendo il tattico Adesso Sto pompa è troppo lento Penso Anche se il tattico È leggendario Però Sto spammando Questi pesci No no Lagga 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 Eh sì perché lagga No 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 Ma no Quanto togli Sto pompa Mizzera Togli un botto E OP Se lo trovi in partita Va bene Sì però Se lo prendi Cioè Anche se il minore è grande Lo se lo prendi tipo Agli estremi Del Del mirino Eh Eh infatti Togli di meno Però Sempre che Lo colpisci Sempre che Lo colpisci Eh Ok Io Io 40 Penso Sì è meglio Prendere le cure Le riportare 8.960 Di regna 10.000 Di mattoni Inizio Aspetta Quanto dura No 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 Due secondi Aspetta Prima Prima dava 50 Sto pesce Ah Oh 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 Su gioco Come è diventato Si c'è che diventato Alla giunta Ah Ah Sì Ma sai che Ma sai che Ma sai che Ma sai che Sai che Ho pisse Lo so usare bene Io lo savo Io lo savo E ho pisse Termico Prima era quello normale No ma sai che Il mirino termico Il mirino termico È difficile da usare Sì no ma Sì ma Prima La revolver Con il mirino normale Era fortissimo Io lo savo Sempre Ah Cioè Ah davvero Anche in testa Anche in testa Ah è buono però 88 Cioè Eh Aspetta Quindi se Se tipo lo prendi Da 80 Da 1000 metri Fa sempre lo stesso danno Anche se è impossibile Però Dico Un esempio Davvero ma La pista arma allora Vai in una parte alta Quella Tipo Colosseo colossale E No dico Per Per tipo Check in ar Cioè no Check in ar Poco così dice Vabbè Per prenderlo di mira Anche da lontano Può uccidere No no Valla 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 gambotto No way No way No way No way No way 39 89 39 Non l'ho visto bene Valla Valla 8 Toglie poco No Aspetta Prende il tuo pompa Prende il tuo pompa E vediamo Aspetta Dov'è Eccolo Vediamo Sono mai forte Vediamo Cioè La dub Ah Però È un combo Forte Secondo me Questa Questa combo Secondo me È forte Ma quindi No way Senza mirare Stavo scendendo Cioè Stavo cadendo E praticamente Volevo Prendere Di no scope Vabbè Creativa No Davvero Quindi Non so che prima erano buoni 3100 Cioè Per le missioni Che davano prima Sì Lo so Però dico No Lo so Però dico Se davano L'exp No c'era L'exp Lo sai Cioè Tipo Nella season 3 No Season 3 Prendere No Prima L'exp Serviva Quasi per tutto Prima No Sì Però dico No Cioè Sì È vero Questo Però dico Non solo Non solo per quello Non solo per quello L'exp Serviva quasi per tutto Però dico Sì Per tutte le scheme Ma anche Ma anche per avanzare Di livello Per Per esempio Per le competi Non mi ricordo Vabbè Comunque Comunque Prima Che 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 Stavo dicendo Ah prima Ti chiedeva 17.000 O 20.000 Dipende che livello sei Per esempio Se sei livello 5 Serve tipo 800 Però quando ero Tipo a livello 90 80 70 Te ne chiedeva 30.000 XP Però Se c'era questo Prima Tipo ogni 15 minuti Davano Sto XP 3000 Era buonissimo Com'è Il tapano Della skin Che vuol dire Qui c'ha un mantello Davvero Ma così non vale un po' Spai Dove sei Ah Wow Sì ma Ma è troppo P Quest'arma Cioè Questa 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 cosa Sì ma Io lo userei Cioè Usai sempre Quel personaggio Cioè Se si potesse Volare Planare Sì ma è buono Senza costruire Ah ti da Delta Plani Ti da Io pensavo Che fosse Pensavo Pensavo Che fossero Delle Mot Cioè Se non sarebbe Troppo Pi Sì E che è gratis Senza Acquistare pass Ah Cioè Cioè Devi fare Delle missioni Cosa Devi fare Vabbè Io adesso Non li faccio Perché sta Laggando un botto Se li faccio Non muoio Subito Sì ma È un po' Impossibile Per me Cioè Come faccio Cioè Per esempio Ti dice Uccidi Questo Dizio Con un pompa Con il cecchino No Sembrano le vecchie missioni Per avanzare Col pad Per avanzare Il pass Però Boh Vabbè Però Vabbè dai Che cavolo È velocissima Guarda Veloce Ma questa è No Non è la stessa Vediamo Vediamo Com'è Quanto toglie Ah Sì Ma no Ma sai che è vecchia questa Però era tipo E cioè Che fa In più Quanto toglie 17 Un po' poco Però Se spami È forte Questo Toglie È buono Ah Vabbè Dopo facciamo Props Versus Hunter Non mi ricordo Come si chiama No Mir Che smircio Sì Andiamo Ma la mappa c'è già O dobbiamo caricarla Ieri c'è No L'altro ieri Non mi ricordo Io vedo qua Non è questa Memory Snowman Forse Survival No non c'è Penso Boh Prima c'erano Ce n'erano un botto di stamattro così Isole Isole recenti Io c'ho Zone Wars No non ce n'ho Io sai che c'ho delle Bad Wars Io c'ho le Bad Wars Mamma mia Sono bellissime C'è anche Zone Wars E Sky Wars Sky Wars le conosci Sono troppo belle No ma No aspetta Questo Fidati Questo È troppo bello Questo Sky Wars Che ho messo io Io ci giravo Qua qua Eh Questa è una Sky Wars Tipo Devi rilutare delle ceste Poi Tipo C'è il centro C'è un'altra isola Bellissimo Boh Poi Vediamo Questa qua È bella Prima era troppo Però spero Spero che non mi lagga Perché io adoro Questa mappa Ok Non sta laggando Adesso Speriamo Che duri così Per tutto Non sta live No sta laggando Perché ho parlato Eh infatti Mi viene a dire nulla Stava giocando a Rainbow Cavolo Aspetta Ok Cosa Io c'avevo Valkyria Si chiamavano Vikinga Se scherzo Diventate strane Però Dettagli Strane No ma Prima Non avevo tutte Queste mutazioni Dalla season 8 L'ho iniziato A fare sta cosa Sì 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 Da quella Ho iniziato Io Sì quella No aspetta Ma forse Che forse C'era Eh Però aspetta Lui vuole Lui può Cioè Sua madre vuole Che entri Nella live Meglio Non farla entrare Poi Un altro giorno O dopo Non lo so Quando vuoi Dopo Sicuro Dove sei Io sono al centro Io sono al centro Tu stai All'isola Davanti No davanti All'edificio tuo Cioè davanti All'isola tua Però c'è un'altra Ancora più avanti Quindi dovresti andare Sì Io l'ho aperta Ma non ho trovato Sto gran Però Sì vabbè Quello Io ho trovato Ah un tattico Meglio Questa Questa qua Mi No no lagga Fra Lagga lagga Cavolo 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 Cioè prima che Vedi Cioè prima che tu Venivi Non laggava Strano Che che è Hai usato qualche hack No 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 Cioè vai in ritardo Eh vabbè Sì Vabbè Questi balletti Sì Aspetta Concludo la live Un attimo Aspetta Concludo la live Ok ragazzi Spero che vi sia piaciuto Questa live E Se vi è piaciuto Lasciate un like Scrivete nei commenti Se vi è piaciuto E ci vediamo alla prossima Ciao